E allora siamo qui sorridenti nel camerino, un'improvvisata come non mai con Claudio che è venuto qui a Catania, lui da palermitano, a ritirare un premio a cui la Patrizia, perché questo è un premio aggiunto alla ventunesima edizione, tiene tantissimi. Allora tu rientri fra i premiati e allora decidi. Sono molto onorato di venire qui a Catania a prendere questo premio, sia perché vengo a Catania, quindi è sempre una bella scusa per vedere questa bella città, sia perché comunque è un premio siciliano e essendo siciliano mi fa doppiamente piacere. Assolutamente, è molto bello sapere che questo premio va alla operosità, quindi come tu sai allora ha una valenza ancora maggiore. Ma tu, capo dei capi, raccontaci, Totò Reina. L'operosità dei siciliani. Le siciliane è la tua, nello specifico. No, ma infatti sfatiamo questi falsi miti, noi siciliani ci facciamo un mazzo così, non è vero che lavorano solo al nord, noi abbiamo sempre lavorato più del nord, ci siamo, vabbè lasciate un discorso lungo. Comunque dicevamo, che volevi sapere tu, del capo dei capi? Del capo dei capi, vado 7 anni, ragazzi basta, il capo dei capi è andato in onda, vi è piaciuto? Ora io sto facendo altre cose. E raccontaci, parliamo delle altre cose, c'è qualcosa che puoi anticiparci. Ma adesso per esempio sta per uscire a gennaio, uscirà la seconda stagione del tredicesimo acosto, perché è pure divertente, non ci sono mafiosi, non ci saranno sparatine, però comunque noi siamo molto divertiti a farlo e spero che si possano divertire anche gli spettatori a guardarlo. Assolutamente, allora che dire, intanto ti auguriamo, ovviamente siamo in periodo di Natale, ti facciamo i nostri maggiori auguri, siamo contenti che tu sei qui, ti vedremo ora, non so cosa prevedono per te, semplicemente un ritiro del premio. Eh sì, sì, penso che la serata è molto articolata, molto ben costruita e poi ci sarà un momento in cui vi daranno questo premio. E allora, noi siamo assolutamente contenti per Sport Enjoy Project Magazine, che il nostro Claudio Gioia abbia potuto un attimino rilasciare questo piccolo così, sorriso. Tanti auguri a tutti e buone feste. Grazie.